La mia vita La mia vita E peraltro assai potente Venite a scoprire L'incredibile storia di una ragazza Trasformata da una misteriosa maledizione Ma sarei davvero io? Di un castello errante incantato Questa qui è una casa magica, vero? E di un giovane affascinante mago, tanto potente Da poterla liberare Finalmente ho trovato una persona che sento di dover proteggere Lucky Red è orgogliosa di presentare Il nuovo capolavoro di Ayao Miyazaki Leone d'oro alla carriera Al Festival di Venezia Partite per un nuovo fantastico viaggio Aspettatemi nel futuro A bordo del castello errante di Howl Il nuovo capolavoro di